Vai pure un pochino a destra, vai, vai, non con i treni, con il corpo. Ottimo, perfetto. Ora il vento è in coda, quindi tieni un po' frenato i comandi, un po' frenati i comandi. Perfetto, bene. Perfetto, bene. Bene, ne facciamo una a destra, un pochino più stretta, poco poco più stretta. Il vento, l'abbiamo visto, è parallelo alla strada, viene da Norcia, praticamente da quel lato lì. E adesso uno ancora più stretto a sinistra, vai. Spazati bene la testa fuori. Ottimo, adesso Ale, portati sul punto di smaltimento per fare un 8, naturalmente in direzione colle tondo e poi in direzione strada asfaltata. Sopera la strada e inizia pure questo 8. Quando stai per arrivare alla strada asfaltata farei un 180 a sinistra. E poi regolati per fare la virata finale, verso l'atterraggio, verso i cavalli. Dai, direi che è ora, penso. Bene, dai, sguscia fuori. Metticela tutta, freni alti. Facciamo che questo volo sia anche quello dell'atterraggio perfettamente in piedi, se ce la fai. Va bene, la prossima volta. Bene. Bella classe. Allora, com'è stato questo volo? È stato fantastico. Bene. È stato molto, molto bene. Il decollo? Ti ha preoccupato un pochino, eh, quel vento? No, il decollo era, sì, era forte, però andava bene. Sei sentito tranquillo subito? Sì, Claudio, tranquillissimo. Complimenti Schizzo, bravo, bravo. Grazie, grazie.